La collaborazione tra il Comune dell'Aquila e l'Università degli Studi in tema di protezione civile e pianificazione d'emergenza ha prodotto i primi risultati significativi, risultati che porteranno all'aggiornamento del piano di emergenza comunale essenziale per la sicurezza di tutti i cittadini. La collaborazione è stata tra il settore di transizione ecologica guidato dall'assessore Fabrizio Taranta e il Dipartimento di CEA, con in particolare il corso di laurea di tecniche della protezione civile e sicurezza del territorio, la presentazione dei risultati in comune. Questa esperienza insieme all'Università dell'Aquila ci ha aiutato nei lavori dell'ufficio, nella gestione sia dell'aggiornamento del piano di protezione civile e della relativa cartografia, sia nel creare le infrastrutture, diciamo così, nelle aree di accoglienza di protezione civile in modo da trovarci preparati e con tutto l'occorrente a disposizione nel caso in cui dovesse verificarsi un'emergenza, speriamo ovviamente il più lontano possibile. Noi abbiamo già dei fondi che sono dedicati proprio alla realizzazione delle aree di protezione civile, quindi sia di accoglienza che di ammassamento. E il corso professionalizzante dell'Università dell'Aquila in materia di protezione civile e di gestione dell'emergenza ci mette sicuramente a disposizione del personale che sarà formato, preparato, a disposizione degli enti. Gli studenti hanno portato avanti un lavoro certosino su aree di accoglienza ed edifici. Il nostro lavoro è finalizzato a quello che sarà il futuro aggiornamento del piano comunale d'emergenza. I lavori svolti sono stati l'individuazione nelle aree di accoglienza, edifici rilevanti, edifici strategici, strutture operative, individuazione e poi abbiamo cartografato, come vedremo successivamente nella presentazione, nelle mappe che poi andranno ad aggiornare quelle che sono le schede che si trovano già nel piano d'emergenza comunale. Quindi diciamo che il nostro lavoro è un lavoro importante perché va ad aggiornare, a ridefinire quello che è un piano comunale d'emergenza che deve essere per i cittadini, per il cittadino. Una novità, sicuramente abbiamo ridefinito la quantità di popolazione che possiamo accogliere nelle tendopoli, ma anche la tipologia di popolazione, la presenza di popolazione presente, esposta ai vari rischi, ad esempio rischio idraulico, rischio idrogeologico, rischio avalanga, eccetera. Ora con gli ultimi aggiornamenti delle carte dei rischi, come il rischio idrogeologico, c'è un nuovo lavoro ad esempio da Rischia che aggiorna e quindi che espone più popolazione al rischio. Sappiamo poi, grazie alla collaborazione anche con gli uffici amministrativi, abbiamo contezza della quantità di popolazione presente al rischio, per ogni tipologia di rischio, in che zona, in che frazione, quindi sapendo quanta popolazione poi dovremmo andare ad evacuare.